L'hanno chiamata operazione ricariche. Un po' per i continui smerci di droga pagati ricaricando a crediti su post e pay, un po' per quel termine car che indicava un linguaggio criptato di compravendita di automobili quando in realtà il commercio era di cocaina, ingente e continuato fra Fano e Pesero in collegamento ad Acerra e Cicciano nel napoletano. Così i carabinieri di Fano alle prime ore dell'alba di oggi hanno dato esecuzione in campagna di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per indagini preliminari di Pesero nei confronti di nove indagati di spaccio di cocaina, riciclaggio e distorsione. 14 in tutto gli indagati, uno dei quali è stato già raggiunto dalla custodia cautelare in carcere. Agli altri otto sono stati sequestrati beni di loro proprietà di circa 150.000 euro, una cifra corrispondente al profitto ottenuto dalla vendita dello stupefacente. Le indagini dei carabinieri di Fano assieme ai colleghi del nucleo operativo sotto la direzione della procura della Repubblica di Pesero sono partite a dicembre e hanno consentito di smantellare una banda di nove criminali, tutti campani di Acerra e Cicciano, che organizzavano viaggi e spacci di cocaina a Fano e Pesero. Durante l'indagine sono stati eseguiti in tutto quattro arresti in flagranza con il sequestro di circa mezzo chilo di cocaina. Episodio chiave, l'arresto di una coppia fanese avvenuto il 18 febbraio. Due coniugi furono infatti sorpresi ad occultare stupefacenti in un capanno vicino alla loro casa di Fano. Dall'in poi una lunga indagine ha approfondito i canali di approvvigionamento, che sono stati individuati in un padre e un figlio di Acerra di 61 e 36 anni, che trafficavano grosse quantità di cocaina in viaggi regolari verso Fano e Pesero. Non solo la coppia fanese, ma anche a Pesero altri giovani sono stati sorpresi con quantità di polvere bianca, poi pronta per una ulteriore rivendita al dettaglio. Le indagini hanno ricostruito viaggi dello spaccio che risultavano del tutto imprevedibili, così come insospettabili erano i luoghi dello smercio, tra questi anche l'interno dell'ospedale Santa Croce con il 61enne presentatosi in giacca e cravatta a smerciare coca nel nosocomio come ripreso dalle telecamere. Dopodiché tutto finiva sulle poste pay con accrediti di 800.000 euro pronti a essere ripuliti. In tutto si stima che quelle ricariche siano ammontate a 150.000 euro. All'alba di oggi il 61enne trafficante di Acerra è stato arrestato e trasferito nel carcere napoletano di Poggio Reale. A carico di 9 dei 14 indagati ad Acerra sono state eseguite all'alba anche perquisizioni domiciliari che hanno permesso di rinvenire altri 5.000 euro in contanti, altri dueti di hashish e un etto di cocaina pronti per la cessione all'ingrosso. Agli indagati sono stati sequestrati beni del valore complessivo di 150.000 euro.